l'autostrada, giusto? Siete venuti d'accordo? Beh, a qualcuno di voi mi permette di chiudere l'autostrada? No? Velocemente cercheremmo di regolare la velocità in autostrada, di far rispettare la legge in autostrada, di dotarci di autovetture con sistemi frenanti adeguati e via così riscaldremo. Ecco, ci sono i problemi sul gioco, c'è l'illegalità, c'è tutto, ma questo non vuol dire dover chiudere il gioco, riparisco, vuol dire doverlo regolare, è tutto lì il problema, è la qualità della regolazione, sempre e solo qui. Non cadiamo nella trappola di chi vuole chiudere l'autostrada, continuiamo a andarci in autostrada rispettando la legge e con una legge adeguata, scusate.